L'associazione Takamori è lieta di annunciarvi il terzo appuntamento della Rassegna JFS al cinema Rialto in collaborazione con Asia Institute martedì 21 novembre. Helter Skelter è un film d'essai con protagonista la supermodella Ririko che si sottopone a diversi interventi di chirurgia estetica per continuare ad essere considerata un esempio di bellezza. Tuttavia, col tempo, gli interventi cominciano a mostrare gli effetti collaterali. Ririko, per non essere scavalcata da una nuova supermodella più giovane, bella e gentile, renderà impossibile la vita di quelli che le stanno intorno. Per acquistare i biglietti visitate www.circuitocinemabologna.it Se siete interessati alla Rassegna o volete maggiori informazioni www.takamori.it oppure sul nostro canale YouTube Associazione Takamori.